segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te under nezzorov dopo l'inizio della guerra la duma che la vostra assemblea approvato parlamentare approvato una legge che prevede 15 anni di carcere a chi dà diciamo fa notizie false disinformazione sulla guerra è stato condannato questo suo collega nostro collega perché aveva semplicemente detto che il bombardamento dell'ospedale di mariupol era stata opera delle forze armate russe carlo narsili l'ha intervistato e poi lei mi replica prego se fossi in russia in questo momento mi troverei già in prigione probabilmente rinchiuso al carcere duro sono stato condannato in contumacia per aver detto la verità sui crimini di guerra commessi a mariupol e in altre zone dell'ucraina dall'esercito russo e lo hanno potuto fare grazie ad una legge promulgata da putin che prevede la persecuzione delle persone elencate dal servizio di stampa della propaganda di putin creato ad hoc per punire chi usa la parola guerra al posto di operazione speciale e non rispetta le sue indicazioni io ho visto i video su instagram che ha pubblicato di fatto non sono altro che le immagini brutali di una guerra cioè è per quelle immagini lì per quel video lì che rischi a 15 anni di smir usa zna et pravdo a bpv per questo io finirei in prigione tutto il mondo ha visto il vero volto di questa guerra tranne la russia che per 24 ore al giorno è mantenuta in un mondo di silenzio e menzogna grazie a somme inimmaginabili spese per la propaganda del regime il 24 febbraio putin non ha dichiarato solo la guerra all'ucraina ma anche alla libertà di parola a chi aveva accesso ai media ai giornalisti e le testate che per paura nei confronti del regime di putin si sono consegnate il caso di marina ofsyanikova la giornalista che ha manifestato in televisione in diretta televisiva contro la guerra in russia la indicano come un evidente caso di libertà di parola cioè il fatto che lei alla fine non sia stata incarcerata lei è una persona fantastica capace di un gesto unico ma non è una persona pericolosa per il regime l'hanno accusata di essere al soldo dei servizi esteri hanno distrutto la sua immagine e la sua reputazione evidentemente al regime sembrava sufficiente come si può nominare la libertà di parola quando una persona è costretta a scappare dal proprio paese ad essere condannata in contumacia a perdere ogni sua proprietà solo perché ha raccontato dei bombardamenti sulla casa della maternità di mario pol le pare libertà di parola questa in conclusione putin secondo lei vincerà o a questa guerra e sli nia drogne zappo putin perderà perderà se l'occidente capirà con quale personaggio vide e meschino ha a che fare glielo dico sinceramente se l'ucraina non si fosse difesa voi avreste dovuto costruire trincee anche qui a milano è questo che volete